Tutti conosciamo i tanti problemi che hanno portato alla carenza di materiale e quindi alla limitazione della capacità produttiva. Gli esempi sono la pandemia, la guerra e le tensioni geopolitiche, ma anche il rapido cambiamento tecnologico verso l'elettrificazione nell'industria e in particolare nell'automazione. Di conseguenza abbiamo riscontrato e riscontriamo ancora problematiche nelle tempistici di fornitura causata della mancanza dei componenti e delle materiale prime. Cosa abbiamo fatto noi o cosa facciamo noi pure per mitigare le conseguenze di queste problematiche. La vicinanza ai nostri clienti è il punto uno e cardinale. Dobbiamo capire le esigenze vero e consegnare per le esigenze e non per i magazzini. Magazzini è una medicina, va bene, in una fase senza limitazione a capacità produttiva, invece durante la crisi è contraproduttiva. Due, creare la trasparenza della catena logistica end to end. Perciò la digitalizzazione è fondamentale. Solo con la visibilità completa della supply chain possiamo simulare senari diversi. Capiamo immediatamente le conseguenze dei disturbi e possiamo reagire immediatamente in tutte le parti della catena logistica. Per fortuna nel corso degli ultimi anni come Bosch Rextro d'Italia abbiamo interpreso un percorso di digitalizzazione azientale in tutti i riparti. Così e insieme con i nostri clienti per oggi siamo stati in grado di tenere lontani i danni peggiori dai nostri clienti e per questo stiamo lavorando per soddisfare le aspettative dei nostri clienti.